Chi è diventato genitore lo sa, è qualcosa che può cambiarti la vita e ti cambia anche il tuo modo di percepirti, la tua identità. Ti percepisci anche come madre o come padre e questo è qualcosa che lavora profondamente dentro di te. Ma quando i figli crescono e iniziano ad allontanarsi da casa perché prendono le loro strade, questo come influisce sulla tua percezione? Come riesci a quel punto allora a ristabilire un'identità che ti piaccia? Potremmo dire che quando i figli lasciano casa potrebbe essere un momento di difficoltà soprattutto se tutti i figli lasciano la casa per i coniugi che devono ristabilire degli equilibri che nel tempo hanno modificato. E allora in questo video concentriamoci soprattutto sulla difficoltà dei genitori a guardare i loro figli prendere il volo. Tutti forse abbiamo avuto questa idea di noi stessi come genitori e forse abbiamo sognato dei genitori come quelli che descrive Giovannotti nella sua canzone in orbita dell'album Safari. Cioè sognai i miei vecchi sorridenti in riva al mare guardare la mia barca andare via benedicendo la mia rotta dentro al cuore. Vorremmo tutti essere o aver avuto dei genitori che hanno guardato la nostra strada e le nostre rotte e le hanno benedette e hanno creduto in noi e facendo questo l'hanno fatto col sorriso perché loro stessi soddisfatti della loro vita anche come coniugi, come persone e quindi per nulla dispiaciuti del fatto che i figli possano trovare una loro identità e un loro posto nel mondo che non è detto che sia il nido di appartenenza. Ma quando invece due genitori o un genitore soffre la mancanza dei propri figli perché iniziano a farsi la loro vita questa la potremmo chiamare un po' la sindrome del nido vuoto. E in che cosa consiste? Innanzitutto diciamo che non è una diagnosi psicologica ufficiale ma è un termine, è un modo di dire che indica una serie di sentimenti e di sensazioni che vivono dei genitori nel momento in cui i propri figli abbandonano il loro nido ufficiale e la loro casa per poter proseguire la loro vita ad esempio o all'università o quindi trasferendosi di città oppure trovando un nuovo lavoro o formandosi una nuova famiglia o qualsiasi altro tipo di vita indipendente. Nella sindrome del nido vuoto si descrivono quell'insieme di sentimenti ed emozioni che possono insorgere proprio in questo momento di transizione. Le emozioni principalmente associate sono la tristezza, il dolore, il senso di solitudine e questi sentimenti possono essere anche dovuti al fatto che il genitore perde un po' la propria identità che si era costruito di persona che accudisce, che cresce ai propri figli e dall'altro lato anche l'impressione di non essere più così essenziali e necessari per i propri figli. Proviamo a delencare 5 cause che possono essere determinanti per la sindrome del nido vuoto. La prima è che spesso i genitori si definiscono in base al ruolo che hanno e quindi ha la capacità di prendersi cura dei propri figli e di occuparsi di loro e quindi quando questi ragazzi o ragazze crescono e non hanno più questo bisogno impellente di avere sempre i genitori con sé perdono molta della loro fiducia in sé stessi e di scopo nella vita cioè perdono significato rispetto al loro ruolo a quello che potrebbero fare quando i figli non ci sono e questo può essere dovuto al fatto che molto spesso molti genitori identificandosi troppo nel loro ruolo abbandonano o lasciano o trascurano altri aspetti della propria vita trascurano le amicizie a volte i propri interessi, i propri hobby a volte anche il lavoro o la propria carriera tutto in funzione dei figli e quando questi iniziano ad uscire di casa capite che è difficile reinventarsi secondo le coppie che sono diventate soprattutto brave nel gestire i propri figli cioè le coppie cosiddette soci genitoriali che sono dei manager del tempo dei figli delle scelte dei figli che li hanno accompagnati fin da piccoli a tutte le attività che li hanno aiutati nella loro carriera scolastica che li hanno accompagnati a tutti gli sport che si sono dedicati anima e cuore alla loro crescita a volte fanno difficoltà a risentirsi come coppia semplicemente e ciò a volte comporta anche un aumento dei conflitti tra i due coniugi che non riescono a riadattarsi ad essere solo loro all'interno di quella casa e questo può portare anche ad un aumento di stress rispetto alla propria vita terzo, conflitti all'interno del rapporto genitore figlio o conflitti familiari che rimangono irrisolti un cattivo rapporto genitore figlio una continua presenza di conflitti di litigi, di tensioni che non vengono mai risolte possono causare dei sentimenti di inappropriatezza di solitudine e di dolore quando i figli escono di casa perché sembra di non avere più il tempo o la possibilità di poter appianare questi conflitti che sia il genitore che i figli fanno fatica ad elaborare e ad accettare quarto, può verificarsi anche un certo tipo di isolamento sociale perché attualmente molte famiglie non sono collegate con altri familiari dispersi nel mondo sono molto più separate quindi a volte quando i figli escono di casa che sono le persone delle quali si è occupati ci si è occupati principalmente si avverte come un senso di isolamento rispetto al resto della famiglia allargata e quindi con la difficoltà di ricontattare i propri genitori i propri fratelli, i propri cugini le persone che potrebbero tessere invece quella rete di supporto di cui si avrebbe bisogno e quinto la paura di invecchiare a volte si dice che sono proprio i figli a segnare il passare del tempo a scandirlo cioè vedere i propri figli crescere laurearsi, trovare un lavoro trovarsi una casa fare una scelta familiare all'esterno della propria sicuramente rappresenta un po' il passare e l'incedere del tempo per cui ci si sta avvicinando sicuramente alla vecchiaia e allora nel momento in cui i figli escono di casa bisogna anche affrontare le nuove sfide cioè come si riuscirà ad invecchiare se separati ognuno per sé e se insieme come si riuscirà a invecchiare insieme senza avere i figli come affrontare questa nuova fase della vita che viene scandita in maniera così precisa e allora adesso passiamo a delincare quelli che sono i sintomi che si avvertono nel momento in cui si vive questa situazione questa sindrome del nido vuoto è ovvio che sono diversi da persone e persone ma generalmente includono queste sette caratteristiche numero uno avvertono sentimenti di dolore di tristezza di solitudine due si avverte anche un aumento di irritabilità e di frustrazione tre aumenta l'ansia e l'irrequietezza quattro una diffusa perdita di interesse anche per attività che uno faceva precedentemente nel momento in cui si ritrova senza i figli perdono significato desiderio di essere fatte diventano quasi delle cose che una persona non vorrebbe proprio più affrontare e effettuare cinque difficoltà a dormire sei cambia anche il modo di mangiare a volte ci sono delle differenze nell'appetito o la mancanza di appetito o l'esagerazione di appetito e quindi la buffarsi di cibo cambia comunque il modo di alimentarsi sette riemergono dei sentimenti di colpa per decisioni che sono state prese per i propri figli in certe situazioni e quindi forse si è sbagliato avremmo dovuto fare diversamente forse non sono cose che avremmo dovuto fare in quel modo quindi vi è presenza sia di un senso di colpa per alcune cose che si pensi di avere sbagliato ed anche il rimpianto per alcune decisioni che invece o cose che non si sono fatte o prese se si vive questa situazione è importante riconoscere questi disagi e affrontarli magari facendosi anche aiutare perché potrebbero incidere sulla qualità della propria vita quotidiana e della propria vita di coppia e allora ricapitolando chi è più suscettibile di vivere questa sindrome del nino vuoto? i genitori che hanno fortemente investito nel loro ruolo genitoriale di accudimento di occuparsi dei propri figli hanno maggiore possibilità di sentire il vuoto nel momento in cui i figli escono di casa oppure anche chi ha avuto dei rapporti molto tesi con i figli sentire avvertire l'idea di non poter più riparare o chi ha un rapporto ad esempio matrimoniale che è stato infelice e che quindi adesso diventa qualcosa di urgente perché non essendoci più i figli ad aiutare in questa dinamica di coppia diventa tutto più esacerbato è difficile da accettare e oltre a questo dobbiamo aggiungere anche i genitori che hanno deciso di stare moltissimo con i figli e occuparsene tantissimo che non hanno quindi sviluppato altri interessi altri hobby altre passioni che potrebbero in questo momento esserli d'aiuto si ritrovano molto in difficoltà proviamo allora a dirci quali potrebbero essere alcuni suggerimenti per affrontare al meglio questa sindrome il primo è iniziare a guardare dentro a questa situazione cioè cercare di capire se è un'ansia dovuto al fatto che i figli se ne sono andati e ho perso il mio ruolo oppure se è dovuto al fatto che sto invecchiando se è dovuto al fatto che io ho adesso un rapporto esclusivo col mio conge con l'altra persona che sta nella mia coppia oppure se mi sento solo o sola è un momento importante da non fuggire che ci dà moltissime informazioni su come progettare il resto del nostro tempo 2 se si rimane soli con il proprio conge forse è meglio venire a patti con tutto ciò è cercare anzi di riaccendere la passione riaccendere l'interesse per l'altra persona riniziare a riconoscerla a conoscerla nuovamente in modo tale da poter accendere del romanticismo e se questo non fosse possibile perché un genitore potrebbe ritrovarsi o separato o vedovo forse è il momento di iniziare a pensare che trovare un compagno o una compagna nella nuova fase della propria vita potrebbe essere utile è importante anche perché se i figli non ci sono il tempo libero a disposizione aumenta notevolmente 3 siccome il tempo è aumentato allora forse vale la pena di ripescare qualche passione qualche sogno nel cassetto che si è avuto nel tempo in cui non si poteva realizzare e allora perché non fare quel viaggio importante che si era programmato oppure perché non iscriversi a quell'associazione di volontariato che mi ha sempre così incuriosito oppure perché non praticare qualche sport o iniziare a scoprire a fare qualche corso che possa darmi la capacità di fare qualcosa che mi è sempre piaciuto di artistico di fai da te comunque qualcosa a cui non mi sono mai potuto dedicare per mancanza di energie e di tempo e questo vale anche come vita di coppia cioè si può utilizzare questo tempo per imparare fare cose che non si è potuto fare anche in coppia 4 perché non cercare di lavorare sul rapporto genitore figlio se ci sono delle cose che non sono andate proprio del tutto bene o comunque che possono evolvere e diventare migliori perché non farlo ad esempio se in questo momento il figlio o la figlia sono fuori di casa perché hanno i loro progetti la loro strada e la stanno affrontando perché non condividere con loro delle riflessioni non accettare il loro punto di vista sulla vita accompagnarli benevolmente rispetto ai loro progetti e in questo modo ricostruire riparare un rapporto che forse aveva bisogno di essere rimodellato oppure ricostruito questo vuol dire rispettare le loro decisioni rispettare i loro progetti a volte anche se non si è d'accordo si può offrire un consiglio se è richiesto ma il fatto di accettare il loro modo di vedere le cose e di affrontare la vita potrebbe essere utile per ricostruire un rapporto migliore 5 aumenta la tua socialità cerca di crearti maggiori legami ritrova alcune persone che magari hai trascurato prova a rimetterti in contatto con la tua famiglia allargata prova a rivedere i tuoi amici prova ad iscriverti a dei corsi per conoscere nuova gente perché invecchiando aumenta il senso di solitudine e per non farsi trovare impreparati avere una buona socialità e quindi dei buoni rapporti con tante persone è qualcosa che ci può mettere al riparo da questo senso di abbandono e di solitudine 6 cerca di darti un nuovo obiettivo nella vita e se lo scopo di crescere i figli l'obiettivo di crescere i figli è andato a buon fine allora a questo punto bisogna che inizi a prepararti ad avere degli altri obiettivi vivere senza avere un obiettivo è difficile soprattutto in certi momenti di transizione e se il tuo impegno lavorativo sta diminuendo per l'età bene allora cerchi di darti degli obiettivi che possano impegnarti il tuo tempo con delle passioni o degli interessi particolari che però potrai gestire con calma senza dover essere sopraffatto o dover stare a degli orari che ti costringono a non avere tempo per te e allora avere uno scopo potrebbe essere veramente una grande opportunità quando i figli lasciano quindi il tetto e quindi lasciano il nido è un momento che può essere veramente di difficoltà di stress perché è un momento in cui la persona deve rivoluzionarsi trovare nuovi stimoli come dicevamo trovare nuovi obiettivi però è una grandissima opportunità e molte volte molte coppie riescono a trovare dei nuovi spazi dei nuovi interessi avere più tempo per loro e quindi trovare la possibilità di viversi la coppia in maniera più profonda e soddisfacente anche per le persone separate o comunque che hanno perso il proprio conge possono avere il tempo e l'energia da dedicare a se stessi per ricostruirsi comunque una vita che possa essere soddisfacente e anzi molto gratificante ovviamente un genitore non è che sparisca dalla vita dei propri figli i figli potrebbero comunque avere bisogno di una guida o comunque di consigli e allora rimanere a disposizione se richiesto di aiuto o di consiglio per loro è qualcosa di molto importante e che può riadattare il ruolo del genitore in qualcosa di più confacente alla situazione attuale quindi è una grande sfida che una persona può vivere nella propria vita di potersi riadattare come persona e anche nel ruolo di genitore come essere di supporto e aiuto ai propri figli ma anche avere più tempo per se stessi per potersi godere e sviluppare le cose che veramente ci interessano ed avere comunque un rapporto equilibrato non troppo presente non troppo distante con i propri figli se questo momento di transizione è un momento di grande tristezza di grande angoscia e che dura da molto tempo forse vale la pena anche in questi casi di rivolgersi a un professionista a un terapeuta e poter trovare degli adattamenti delle soluzioni che possono aiutare ad accelerare questo processo e quindi ad avere più tempo disponibile per potersi godere la propria vita se questo video ti è stato utile puoi lasciare un like e se hai delle storie dei suggerimenti delle esperienze che vuoi condividere con gli altri membri della community le puoi scrivere qua sotto nei commenti grazie a tutti